Un cos'è? Oh, Pina, è aiutata! Ancora, tu non la vuoi scattare, è vero? No. Zio! Zio, Zio! Ma si fa sempre il gheppo! Un jack! Zio mi ha pescato il culo, non lo potevo ammettere! Sì, non lo potevo ammettere! Io ho provato come cazzo, però potevo ammettere! Buh! Quando tu dici... Solo 10 puoi ammettere? Allora, fio! Ok! E' un cotec... No, no, sei sei sei! Vediamo! Guarda cosa sei meglio, no? Non si dico... però... Oh mamma! Andro, pagno, prendi il caffè! Adri, non la porti? No! Adri, non la porti? Adri, non la porti? No! Ma no, stai dobbendo una scorzona! Cia, apri un olore! Non fa tra l'arrivo! Cia, apri un olore! Sare di mano! A me! Sei scemo! Sei scemo! Ci apposta venti! Non c'è che di lavoro! Ma metti... Cuccia! Cuccia! Non li fai! 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 Mamma! Ti amo! E la so! Scusa, questo è per te anche il gioco di culi, secondo me! Ma fai la buona! Se lo vuoi mettere! Il caffè! Un'altra cosa è? È il caffè! Un bel gioco di culi! Ecco di qua! Dino di serve! A medicine! Te lo prenderai! Ma oggi sei brutto e cattivo signorinia Lume si dimenticata che è stata colore tuo Tu non vuoi che si... Sono di mano Federico Io? Una schifo, lotto di quadri Chi mi passa il coffee? Così, quanto è caldo? In capo a te No No, io oggi Dai, però sono bello, eh Dai, Maria Adriana Eh Cioè, tu non mi piaci bene, Maria Fratello E' carta doppioni Quanto sei bruttato Ah, mamma, mi hai detto tre caffè Martina come a Diggio e Sera Sei di mano? Sono di mano Oh, cercati Che faccio, Filippo? Dai, prendo, dai Ma ho chiuso i quattro, non faccio nicarato Grazie Grazie Grazie